La giornata odierna era quella fissata dal presidente del Teramo Franco Iachini come deadline per procedere autonomamente nell'organizzazione della nuova stagione sportiva qualora non si fosse concretizzato alcun movimento societario, allargamento della base o cessione della maggioranza delle quote. Anche se i colloqui proseguono, la situazione non è mutata e allora arriva il momento di porre le basi per la stagione, seppur con notevole ritardo. La sessione estiva di calciomercato si è aperta due settimane fa, tra una decina di giorni scatterà anche il ritiro e al momento il Teramo non ha un direttore generale, non ha un direttore sportivo, non ha un allenatore, ha 15 giocatori sotto contratto che aspettano di capire obiettivi e aspettative per il prossimo anno. Per la figura di direttore sportivo, pur non potendosi escludere colpi di scena, Sandro Federico resta in pole position, anche perché con così poco tempo a disposizione è un dirigente che conosce già bene proprietà e giocatori sotto contratto, e non ha bisogno di ambientarsi. Sarebbe la scelta più logica, ma resta da capire se questa è anche la reale volontà del massimo dirigente Teramano. Sul fronte allenatore nelle ultime ore inizia a decollare l'ipotesi interna che porta a due profili. Uno è quello del responsabile del settore giovanile Cetteo Di Mascio, che ha già guidato la prima squadra dopo l'esonero di Tedino da metà febbraio 2020 fino alla sospensione per la pandemia e poi nel playoff di Catanzaro. Confermato subito dopo alla guida della prima squadra, ha poi incassato il dietro front della società con l'avvento in panchina di Massimo Paci. L'altro profilo assolutamente inedito è quello di Marco Stella, allenatore della Berretti Biancorossa, stretto collaboratore di Di Mascio, nonché suo vice al momento della promozione in prima squadra. Per Stella, che ha sempre allenato squadre giovanili o dilettantistiche, sarebbe un debutto assoluto dopo aver preso l'abilitazione nel gennaio 2020. Perde quota l'ipotesi Federico Guidi, attuale tecnico della Casertana, a cui è legato fino a giugno 2023. La squadra campana va verso l'esclusione dal campionato di C. Guidi può liberarsi, ma ad attenderlo c'è Limolese, che ha appena cambiato proprietà, passata all'imprenditore battipagliese Antonio De Sarlo, che porta con sé l'ex DS della Casertana Agnello Martone e, probabilmente, Guidi come tecnico. Nelle prossime ore, dunque, si attendono sviluppi sulle figure tecniche apicali, poi le attenzioni si sposteranno sull'organico. Grazie. 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 Grazie a tutti